ben ragazzi questo è un nuovissimo gameplay come in descrizione oggi con cj facciamo i paramedici prima di iniziare seguitemi su instagram luca tv show facebook luca giusto come sapete già o per chi non sa gta san andreas aveva la possibilità di fare missioni secondarie con tutti i mezzi possibili e immaginabili del soccorso insomma con l'ambulanza con i pompieri con la macchina della polizia ranger e robe varie e oggi incominciamo a fare a diventare della sicurezza insomma i paramedici boh non badate da come son vestito però ora oddio porto i pazienti in ospedale guidando con cautela e incominciamo la prima missione guardiamo com'è allora il tempo è rimasto 1 minuto e 43 guardiamo come mi destreggio da dopo due mesi finalmente posso finalmente sto riportando gts an andreas avevo visto che vi era piaciuto abbastanza e quindi ora magari più avanti continuo anche gli episodi veri e propri per ora devo trovare dov'è l'abitazione mi sa che sia sotto se le strade però sono quadrate cioè nel senso oddio oddio no oh madonna no dov'è dov'è oh ma 53 secondi cazzo dov'è oh veloce non so perché sale davanti non lo so cazzo qualche minuto e 27 no 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 eh c'è una persona ferita quindi cazzo madonna è impossibile guidare così cioè oddio oddio so che potevo far prima a mettere le mod i trucchi su gta 5 per gts an andreas con questi generi di mod di trucchi qua non so perché dico sempre mod è più figo come una cosa insomma dai che ce la faccio e beh devo farcela non voglio che una vittima muoia per colpa mia no che sennò mi... oh ecco c'è una vittima qua guardiamo dove devo portarla c'è una vittima qua ecco salta su non so perché doversi saltare tu su però la prossima volta nei prossimi episodi insomma mi organizzo meglio con i video c'è perché su quello l'ho fatto un po al volo dato che da una settimana che non porto niente quindi volevo portarlo prima possibile quindi spero che vi piaccia sempre 20 like in realtà i like non li c'è se volete potete darli a me servono più che altro per vedere se siete attivi o meno dai veloce 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 vediamo quanto tempo si mi hanno dato 15 secondi dai dai non voglio finire la mia carriera da da medico da paramedico porco cane ok ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio veloce 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 io sono il miglior medico di tutta lo santos quindi a posto con me e nelle mani sicura tutti quanti gli altri sono dei 14 perchè non vuole uscire? oh ah è uscito? ah si ok dove vado adesso? oh madonna boh se vedete che ho 1644 dollari e che ho usato i trucchi insomma per i soldi infiniti quindi si oh c'è un'ambulanza qua non siete neanche capaci di non morirmi non morirmi ti prego se no la mia carriera finisce ah ma allora tanto mi chiedo una cosa boh ok non imbadiamo il vestito però boh intanto perdiamo tutti i suoi soldi però è morto nel tempo che era scaduto il tempo proprio ok si molto molto bello e niente cj vi saluta al prossimo video tanto qua c'era un poliziotto che mi stava per buttare sotto più avanti farò anche il poliziotto e niente spero che vi sia piaciuto come sempre seguitemi su instagram luca tv show facebook luca giusto ben direi al prossimo video arrivederci a tutti al prossimo video ben direi 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 al prossimo video Grazie a tutti.